A Capaccio Pestum è stato finanziato l'asilo con Fondi Por Feser Campania 2014-2020 che accoglierà circa 50 bambini tra i 3 e i 36 mesi e ieri hanno preso il via i lavori per la realizzazione di questo asilo presso il Parco delle Noci in località Rettifilo Vannullo a poca distanza dal centro urbano di Capaccio Pestum. L'intervento mira a rafforzare i servizi di cura per i minori e a potenziare la rete di servizi socioeducativi nell'ambito del sistema integrato della Regione Campania di educazione e di istruzione. È finanziato, come già detto, da Fondi Por Feser Campania 2014-2020 e accoglierà circa 50 bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi. Stando al progetto, ogni sezione della struttura è formata da una zona per attività ludiche ricreative e una zona per riposo separate da muratura coibendata dal punto di vista acustico. Il progetto prevede l'ingresso principale in prossimità del parcheggio pubblico esistente in modo da facilitare il flusso dei genitori che accompagnano i bambini. I servizi amministrativi e quelli tecnici sono organizzati in modo da non creare interferenze con il percorso dei bimbi. Il progetto prevede anche la realizzazione di una cucina interna con annesso, deposito, alimenti e cinque servizi igienici, di cui uno per diversamente abili. Il pavimento sarà realizzato in linoleum e le pareti pitturate in maniera diverse a seconda delle funzioni a cui ogni aula è destinata. La struttura è pensata all'insegna del rispetto dell'ambiente, del paesaggio e dello sfruttamento di energia elettrica da fonti alternative e prevede, tra le altre cose, un tetto verde in grado di migliorare il clima, ridurre la concentrazione di polveri sottili, migliorare l'isolamento acustico. L'arredo infine sarà realizzato con materiali naturali. Nella parte esterna è prevista una fila di alberi ad alto fusto che costituisce una barriera verde al rumore. Nei giardini e nel piazzale saranno allestite altalene, scivoli, sabbiera, cassetta, teatrino, palestra delle arrampicate, panche, tavoli in legno, cavalcabili, tricicli, biciclette monopattini, macchine, dondoli, carriole, utensili per scavare e per il giardinaggio. Con l'avvio dei lavori dell'asilo nido nel Parco delle Noci, dichiara il sindaco Franco Alfieri, realizziamo un'altra opera molto importante per la comunità di Capaccio Pestum. Andiamo a rafforzare la rete di servizi socioeducativi indispensabili per andare incontro alle esigenze delle famiglie. Un asilo nido prendendosi cura dei bambini sin da quando sono in fasce permette a entrambi i genitori di poter continuare a lavorare. Diamo dunque un aiuto concreto, soprattutto alle mamme, troppo spesso parte debole in un mercato del lavoro che sempre più cinico le costringe a scegliere tra carriera e famiglia.